ciao a tutti ragazzi e buongiorno benvenuti in questo nuovo video niente ragazzi questo calciomercato è strano cioè è imprevedibile perché il giorno prima te li dicono una però poi il giorno dopo è subito un'altra non è vero che nel senso che miric voleva rimanere a napoli poi vabbè ieri avevo fatto il video dove alla fine del video se non sbaglio comunque vi avevo detto che era ormai quasi più verso la roma e sembra fatta perché milic oggi la trigoria per diciamo accordarsi con il club romano si parla di 3 milioni di euro di prestito qui non è un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 e più 7 di bonus quindi un'operazione intorno ai 25 milioni quindi milic si farà per la roma milic andrà alla roma e questo cosa significa ragazzi questo sblocca tutto sblocca tutto perché se milic che va alla roma la roma può liberarsi di gecko gecko può venire alla juve questo è vero infatti io ho pensato subito beh se a questo punto se su ares col passaporto è una cosa abbastanza complessa verrà prenderemo gecko ci accontenteremo di gecko a questo punto però su ares in realtà è già comunque in italia fare il test del test dell'italiano quindi se comunque lo supera lo supera anche su ares fino alla juventus perché comunque anche il giocatore ha già un accordo con la società juventina e quindi mi domando ma la nostra squadra la nostra amata juventus alla fine parlo per i tifosi che ti fanno juve ma chi cacchio prende alla fine in attacco cioè oggi comunque siamo a 17 ragazzi e 19 inizia il campionato se gecko è libero e su ares è libero io non penso che la juventus possa permettersi di pagare entrambi io se devo pensare che dopo domani inizia il campionato direi che ti servirà più di gecko perché gecko ce l'hai subito ce l'hai pronto lo metti già negli 11 e su ares arriverebbe comunque dopo ottobre quindi non capisco questa cosa qualche suare comunque sempre in italia e non capisco nulla poi magari boh mi sorprende la juventus e non prende nessuno in attacco fino a troppo che non arriva su ares che adesso magari si arrangia con con di bala anche se infortunato per adesso si aggira con ronaldo kuruseschi e poi arriva su ares arriva su ares e giriamo le prime tre bar a quattro per il campionato così o se nostro punto veramente ragazzi gecko è obbligatorio è obbligatorio averlo subito questa è la perplessità che che non capisco se voi magari ne avete capito un po più di me fatemelo sapere nei commenti mi raccomando perché io non è che ci sto capendo tanto comunque la roma molto attenta molto attenta nel mercato alla fine io sto sottovalutando questa roma perché oggi hanno anche ufficializzato kumbulla ma ne ho parlato anche di lui di un video che sarebbe stato probabilmente un giocatore della roma e oggi invece lo è perché il giocatore è stato pagato 13,5 milioni dal verona quindi kumbulla è ufficiale un nuovo giocatore della roma quindi poi se la roma piera anche milic col fatto che comunque arrivato anche pedro la roma comunque se in uscita che in entrata con questo nuovo presidente dopo pallotta non sta andando già male questo presidente si sta facendo sentire ecco un'altra cosa che devo dire di di mercato è si parla di di antonio candreva sembrerebbe che ad una candreva invece non sarà più giocatore dell'inter sembra che a genoa sia la squadra più in vantaggio di tutte anzi probabilmente andrà al genoa continuano veri più nei suoi piani è sempre stato un suo pupillo ma nell'età diciamo che mi sta ad avanzare 33 anni anche nella michevone con lugano se non sbaglio non è manco stato convocato quindi questo qua era già un segnale che non avrebbe fatto parte diciamo del della squadra di conte per il prossimo anno e quindi antonio candreva andrà al genoa che appena comunque ufficializzano ufficiale degli acquisti diciamo sia genoa che sandoria voglio farci un video a parte ragazzi perché sembra che comunque le due squadre genovesi si stanno muovendo molto molto bene sul mercato genoa sandoria si parla di un che tabalda la sandoria e candreva più un re cal genoa che poi già già fatto anche tanti altri acquisti quindi a ricordi voglio parlare un video a parte in questo video qua ve lo concitarvi più che applicato su l'attacco della juve che non si capisce chi sia star ma vi era a sto punto staremo a vedere e volevo dire solo che candreva non sarà più giocatore dell'inter quindi ragazzi mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciato un bel like commentate se va così almeno poi mi potete far sapere voi appunto chi sarà questo benedetto no questa benedetta punta 9 del della juventus e cosa ne pensate voi genuani e anche del di questo acquisto qua di candreva e se per voi intervisti era giusto darlo via antonino e soprattutto ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale se vi fa piacere pirale bianconino è tutto bella ciao